I numeri non danno più speranze all'aggiunta Brucchi. 15 consiglieri di maggioranza sono ben due al di sotto di quella che è la quota minima. Il Consiglio Comunale di questa mattina ha dato questo risponso definitivo che lo si può tranquillamente definire ultimativo. Il sindaco Maurizio Brucchi alla fine non ha voluto parlare. Se dico che non faccio dichiarazioni, non faccio dichiarazioni. Una frase però la detta durante il Consiglio Comunale. La dignità di Maurizio Brucchi non ha un prezzo e non è in vendita. Lo ha detto scandendo bene le parole con il tono di voce alto. È sembrato un preludio a delle dimissioni che appaiono a questo punto inevitabili. Il capolinea si è avvicinato dal momento che questa maggioranza non esiste più. Si è disgregata sotto i colpi non tanto di una opposizione che ha fatto il minimo sindacale, tanto di più non serviva, ma di quelli di alcuni consiglieri che erano di maggioranza e che adesso hanno abbandonato la nave. Il futuro di Teramo molto probabilmente per i prossimi 12 mesi o poco più finirà nelle mani di un commissario che prenderà in mano una città in ginocchio. È un peccato perché in questo momento storico sarebbe servita una coesione maggiore. Ma Brucchi paga colpe sue e non sue. Paga una cozzaglia di gruppi e gruppetti, di liste e di partiti che hanno dato vita a una pseudomaggioranza che aveva poco in comune. Le liste civiche possono essere utili per portare voti ma alla fine questo è il prezzo da pagare. Speriamo che alle prossime elezioni se ne terrà conto. Per il resto, come si direbbe su un autobus, signori, capolinea, si scende. Posso essere il proverato a 100 ore a piedi ma non a 100 elezioni. Dai, non ha mai avuto un dolore perché abbiamo un gran dolore di sede e di sedere in questa volta.